Sono le 11 di sera e Roman vuole farmi i boccoli Sono le 11 di notte e non di sera Ah si Allora ho visto un tutorial su internet per fare i boccoli E adesso lo vuole provare anch'io sui capelli di Juliana Come la prima cosa devi farsi la coda Devi farsi la coda qui Me la fai tu? No Si Vai Ho fatto la coda L'ho fatta io Adesso dobbiamo bagnarli un po' Basta Ah si basta Basta No basta mamma Basta Non capisci Basta Dopo prendiamo questo straccio E dobbiamo fare così Non so come si dice in italiano Però dobbiamo arrotolarli su questo straccio Così In questo modo Non c'ha capito Bisogna fare piano E fai bene allora E stringere, stringere i piedi E alzare la testa Ok così Il cavolo è Dove se ne faccio Fai un nodo Forte Forte Aspetta Ok Abbiamo finito Abbiamo finito Andiamo a dormire Domani vi facciamo Vi facciamo Domani vi facciamo vedere Il risultato Il secondo me è Ma che? Non mi devo fregare un cazzo Lo volevo provare BANANANAT BANANAT Ecco E